Per 16 anni ce l'ha avuto il commissario e ha esautorato completamente, direi anche de-responsabilizzato, i comuni che invece sono i titolari della gestione dei rifiuti. Indubbiamente il comune di Napoli ha delle responsabilità gigantesche e la sua amministrazione, ma nell'ambito di questa de-responsabilizzazione, tanto le decisioni le prendeva tutta il commissario, i cordoni e la borsa ce li aveva il commissario e i comuni potevano fare quello che il commissario gli lasciava fare. In molti casi si sono praticamente disinteressati alla questione. Però in quei comuni che invece hanno deciso di fare le cose, per esempio non parlo di piccoli centri abitati, parlo di Salerno che ha 150.000 abitanti, la raccolta differenziata è stata realizzata con obiettivi che hanno portato Salerno al primo posto fra le città italiane per raccolta differenziata in otto mesi. Quindi le cose si possono fare. Lì è mancata la responsabilità politica, ma soprattutto c'è questo pallino fisso che con gli inceneritori si risolve il problema dei rifiuti. Non è vero. Il problema dei rifiuti si risolve riducendoli, facendo la raccolta differenziata e poi avviando in impianti di differenziazione e di selezione del materiale quello che si può ancora recuperare, che è tantissimo. Il residuo è pochissimo. Voglio citare un avversario politico, l'onorevole Gaetano Pecorella, deputato e avvocato di Berlusconi e presidente della commissione di indagine sui rifiuti. È andato in Germania e poi ha rilasciato una intervista al settimanale Liberal in cui dice che in Italia pensano ancora agli inceneritori. In Germania, che sono molto più avanzati, ormai ci sono solo, fanno solo più impianti di separazione meccanica della frazione residuo che avanza dalla raccolta differenziata.